Inizierei ricordando tre aspetti che hanno caratterizzato il rapporto di Leavitt con Marx. In primo luogo l'importanza che la figura di Marx ha rivestito nella formazione e nello sviluppo del pensiero di Leavitt. Non solo riferimenti a Marx sono presenti in tutte le opere di Leavitt, da quelle giovanili a quelle della maturità, ma soprattutto le tre opere maggiori storico-filosofiche leavittiane, con i titoli italiani, Da Ehi e l'Annice, Significato e fine della storia, e Dio e uomo e mondo, presentano ognuna un capitolo dedicato al pensatore dei treviri. In secondo luogo che le interpretazioni che Leavitt ha fornito di Marx, come si dice, hanno fatto epoca, condivisibili o meno a partire dal saggio giovanile intitolato Max Weber e Karl Marx, e soprattutto poi con Da Ehi e l'Annice, Significato e fine della storia, e si hanno costretto ad un confronto serrato, spesso anche duro, ma sempre gravido di conseguenze con i testi leavittiani. Ad esempio Leavitt è stata una delle fonti principali del congelo dal marxismo da parte di Lucio Colletti, congelo che darà inizio, a partire dal 1974, per molti aspetti, a quella che è stata chiamata, soprattutto in Italia, la cosiddetta crisi del marxismo. Ma potremmo citare anche crisis di Cacciari o potere e secolarizzazione di Maramao, solo per rimanere appunto nel caso italiano. E in terzo luogo che la lettura di Leavitt, in particolare quella elaborata in Significato e fine della storia, è tra le letture maggiormente critiche, che dal punto di vista strettamente filosofico siano state mosse a Marx. Oggi ho fatto cenno a Colletti, ma bisognerebbe accennare anche alle non poche polemiche di Leavitt con alcuni dei grandi rappresentanti del marxismo del secolo scorso, da Lukács a Marcuse a Bloch. Detto questo a livello introduttivo, c'è a evidenziare poi come il confronto di Leavitt con Marx si sia scandito, per così dire, in quattro grandi tappe. La prima, il saggio del 1932 su Max Weber e Karl Marx, in cui Leavitt confronta la sociologia marxiana con quella weberiana, individuando il principio filosofico che le contraddistinguerebbe, rispettivamente nella razionalizzazione per Weber e nell'alienazione, nell'auto-alienazione dell'uomo per Marx. La seconda tappa, da Hegel a Nice, del 1941, in cui Leavitt confronta questa volta Marx con Kierkegaard, vedendo in essi i due grandi dissolvitori del sistema hegeliano, delle mediazioni hegeliane tra cristianesimo e modernità. La terza tappa, Significato e fine della storia, la cui prima edizione del 49, la seconda del 53, in cui Marx viene a rappresentare uno dei casi esemplari di quella che Leavitt chiama secolarizzazione, ovvero della trasposizione dell'escatologia ebraico-cristiana nelle filosofie della storia dell'età moderna. La quarta e ultima tappa, che trova in Dio, uomo e mondo, nel 67, il volume più rappresentativo, in cui Leavitt indaga la denaturalizzazione della natura da parte del cristianesimo e della modernità, identificando in Marx uno dei punti culminanti di tale processo, perché in Marx la materia non sarebbe più la natura, la natura fisica delle cose e la natura biologica dei viventi e dell'uomo, ma solo la condizione preliminare e quindi completamente trasformabile dell'appropriazione produttiva di essa da parte dell'essere umano. Sì, abbiamo detto le prime tre tappe, poi c'è la quarta e ultima tappa, che trova in Dio, uomo e mondo, nel 67, il volume più rappresentativo, in cui Leavitt indaga quella che lui chiama la denaturalizzazione cristiana e moderna della natura, identificando in Marx uno dei punti culminanti di tale processo, perché in Marx la materia non sarebbe più la natura, la natura fisica delle cose, la natura biologica dei viventi e dell'uomo, ma solo la condizione preliminare e quindi completamente trasformabile dell'appropriazione produttiva di essa da parte dell'essere umano. Nel curriculum vitae del 1959, Leavitt scrive che la pubblicazione dei discretti giovanili di Marx del 1927 gli offrì l'occasione di allargare l'orizzonte troppo umano del mondo e di includere entro la sfera dell'esistenza singola di ciascuno il potere obiettivo della struttura sociale della società, quale è storicamente divenuta, e di riconoscere dunque con Marx che l'individuo apparentemente indipendente perché isolato è una componente della società borghese, un bourgeois distinto da se stesso in quanto cittadino. Il primo risultato dello studio degli iscritti giovanili di Marx è stato il saggio Max Weber e Karl Marx del 1932. Questo saggio, oltre al confronto tra Weber e Marx, che avrà grande fortuna, troviamo già molte delle linee interpretative che Leavitt riprenderà e approfondirà in seguito. Innanzitutto l'idea di un Marx filosofo, ovvero hegeliano e quindi dialettico, nel senso che l'autoalienazione umana come principio dell'interpretazione del mondo capitalistico borghese è un principio propriamente filosofico, elaborato da Hegel prima e da Feuerbach poi, e non un principio scientifico secondo il criterio Weberiano della multilateralità e della avalutatività della scienza moderna. L'intendere insomma la storia umana esclusivamente come storia della lotta di classe cadrebbe allora nella unilateralità dello sguardo teoretico-filosofico mirante al tutto, a discapito della complessità delle parti e giudicare lo sfruttamento negativamente in quello invece della avalutatività dello sguardo etico-filosofico mirante a superare la distinzione tra fatti e valori. Di particolare interesse per il nostro contesto è la tesi secondo la quale, sebbene si possa e si debba distinguere il Marx scienziato, il Marx scienziato sociale, dal Marx filosofo, quindi filosofo hegeliano e dialettico, non ci sarebbe stata, come poi si dirà, una rottura epistemologica tra un primo Marx umanista e un secondo Marx scienziato, ma la componente filosofica e la componente scientifica si intrecerebbero da sempre nel pensiero marxiano, dalla giovinezza alla maturità, dagli iscritti giovanili al capitale. La cosa sarebbe particolarmente evidente nel manifesto del Partito Comunista in cui le due istanze, quella scientifico-galileliana e quella filosofico-dialettica, andrebbero a tal punto di pari passo, tanto che Leavitt, riprendendo l'analisi weberiana del manifesto, sostiene che esso è sia uno scritto rigoroso di sociologia, per esempio nelle analisi, peraltro, tuttora attuali della globalizzazione del mercato, dello sviluppo planetario dei mezzi di produzione, sia un documento profetico, in cui emergerebbe l'istanza utopica marxiana di un regno terreno di Dio senza Dio, e quindi la missione salvifica del proletariato. Temi questi che Leavitt porterà alle estreme conseguenze nel significato e fine della storia. Nonostante la pubblicazione di questo saggio avesse fatto acquisire al giovane Leavitt la fama di acceso marxista, esso è in realtà, come lui stesso lo definisce, uno scritto non marxista su Marx, che si ristanzia da tesi marxista dell'uomo come ente di genere sociale, il cui compito è di realizzare la tendenza generale del mondo, ma che si ristanzia anche dal relativismo esistenziale di Weber rispetto alla scelta di un valore supremo, valore supremo che per Weber era appunto l'eroica onestà intellettuale nell'epoca della razionalizzazione del mondo, di contro la volontà di Marx di superarlo in nome dell'autoalienazione dell'uomo che esso genererebbe. Ma per Leavitt, come scrive ancora nel curriculum vitae, l'importanza filosofica di Marx non sta soltanto nella sua analisi dell'autoalienazione dell'uomo, in una società che produce tutto come merce, ma nel fatto che Marx, nella sua resa dei conti con Hegel, voleva sopprimere la filosofia come tale. Infatti, dice ancora Leavitt, il motivo autentico che mi spinza ad inserire Marx nella storia della filosofia, un atto che allora era considerato uno scandalo negli ambienti accademici, non fu però tanto il problema della società borghese, quanto la fine della filosofia dopo Hegel, proclamata dal giovane Marx, e la sua trasformazione in una critica teorica dello stato di cosa esistente, allo scopo di attuare un mutamento pratico rivoluzionario, ossia la trasformazione della filosofia in marxismo. Infatti, in Da Hegel a Nice, la cui prima edizione risale al 1941, Leavitt si impegna nell'analisi, come recita il sottotitolo dell'opera, della frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo, ovvero della trasformazione e del rovesciamento della filosofia dello spirito assoluto attraverso Marx e Kierkegaard in marxismo ed esistenzialismo. In Da Hegel a Nice, dunque, Leavitt non compara più Marx con Weber, ma Marx con Kierkegaard, indagando l'origine e il primo sviluppo di quelle due correnti filosofica che, insieme alla storia degli effetti del pensiero nicciano, più di ogni altra hanno influito sulla vita culturale e materiale della prima metà del Novecento. Il terzo capitolo dell'opera, intitolato Il dissolvimento delle mediazioni hegeliane nelle posizioni radicali di Marx e Kierkegaard, riassume bene il tenore dell'altura levitiana. Marx e Kierkegaard sarebbero i critici più lucidi del concetto hegeliano di realtà, ovvero della presunta conciliazione tra reale e razionale, tra esistenza ed essenza. Kierkegaard critica la realtà hegeliana, e dunque il cristianesimo mondanizzato, teorizzato filosoficamente da Hegel, in nome dell'irriducibilità dell'esistenza del singolo e della sua decisione di fronte al tutto della società. Marx critica la realtà hegeliana, e dunque il mondo capitalistico, difeso da Hegel nella forma dello Stato prussiano, in nome della irriducibilità, della concretezza della vita materiale e delle sue produzioni effettive, di fronte al tutto dello spirito. Per entrambi, insomma, alla base della mediazione, della conciliazione hegeliana, vi sarebbe una più profonda scissione. Che lo spirito, sia esso quello oggettivo, sia esso quello assoluto, non riuscirebbe a ricomporre, se non a discapito, della rimozione delle reali contraddizioni del mondo cristiano-borghese, e dunque della caduta del singolo o della classe sociale degli sfruttati nella massima allontananza rispetto alle loro più proprie tendenze ed espressioni. Se nel saggio del 32 Leavitt indagava il Marx teorico dell'alienazione e in Daela Nietzsche il Marx dissolutore delle mediazioni hegeliane, in significato e fine della storia Leavitt prende in analisi il Marx filosofo della storia. Come è noto, Leavitt, con filosofia della storia, cito, intende l'interpretazione sistematica della storia universale alla luce di un principio per cui gli eventi storici e le loro conseguenze vengono posti in connessione e riferiti ad un significato ultimo. Cito ancora, in questo senso la filosofia della storia come... scusate, in questo senso la filosofia della storia dipende interamente dalla teologia, cioè dall'interpretazione teologica della storia come storia della salvezza. Ma allora la filosofia della storia non può essere una scienza. Infatti come si potrebbe affrontare scientificamente la fede nella salvezza? Queste sono le prime due grandi tesi del volume del 1949. La filosofia della storia è secolarizzazione dell'escatologia ebraico-cristiana e proprio perché la filosofia della storia è secolarizzazione dell'escatologia, ovvero dato che il suo ambito rimane quello della fede, in un fine ultimo avvenire, essa non può essere una scienza. Le altre due grandi tesi dell'opera sono invece lo storicismo come conseguenza dell'impossibilità della filosofia della storia e l'idea che una reale continuità storica, come quella che lo storicismo vorrebbe sostenere, sarebbe possibile solo nell'orizzonte di un movimento senza inizio e senza fine, ovvero quello del ciclo della physis degli antichi greci, che la vittoria del cristianesimo avrebbe spodestato una volta per tutte o almeno fino al tentativo di Nietzsche di rifidanzamento col mondo al culmine della modernità. Qui troviamo il Leavitt, per così dire, nicciano, che nel 1935 aveva dedicato una fortunata monografia a Nietzsche e che in Daegale a Nietzsche definiva il filosofo dell'eterno ritorno il pensatore del nostro tempo e dell'eternità, cercando di individuare la strada praticabile al di là di Nietzsche. Ma torniamo a Marx, al Marx, il filosofo della storia, di significato e fine della storia. Nel secondo capitolo dell'opera, che si intitola giusto appunto Marx, Leavitt, dopo aver ribadito l'importanza degli iscritti giovanili di Marx e la loro continuità rispetto al capitale, si sofferma sul manifesto del Partito Comunista, sviluppando la tesi weberiana a cui abbiamo fatto cenno e sostenendo che la filosofia del manifesto è una filosofia del proletariato in quanto popolo eletto. E quindi che il manifesto è un documento che nella particolarità del suo contenuto ha valore scientifico, nella totalità della sua costruzione è un messaggio escatologico e nel suo atteggiamento critico è profetico. La filosofia del manifesto sarebbe insomma un messianesimo storico che ha come fine ultimo la realizzazione del regno di Dio senza Dio, versione secolare del paradiso in terra. In questo senso, dice Leavitt, la storia segreta del manifesto del Partito Comunista non è il suo materialismo cosciente e ciò che Marx stesso ne pensa, bensì lo spirito religioso del profetismo. Anche se Marx, continuo a Leavitt, ebreo emancipato del XIX secolo, era decisamente antireligioso e antisemita, era pur sempre un ebreo dello stampo dell'Antico Testamento. L'antico messianesimo e il profetismo ebraico, che duemila anni di storia economica, dall'artigianato fino alla grande industria, non riuscirono a mutare, e l'insistente esigenza ebraica di una giustizia assoluta, spiegano la base idealistica del materialismo storico. Nella forma apparentemente opposta della previsione scientifica, il manifesto del Partito Comunista tiene fermo al carattere fondamentale della fede, alla certezza di ciò che si spera. Leavitt si chiede allora se Marx si sia mai reso conto dei presupposti umani, morali e religiosi, dei presupposti teologici della filosofia della storia, come recita il sottotitolo dell'opera leavittiana del 49, della sua esigenza di creare un mondo nuovo ricreando gli uomini. Sembra, dice Leavitt, che egli sia stato completamente cieco alle condizioni di una possibile rinascita e dogmaticamente soddisfatto della formula stratta che l'uomo nuovo è il comunista che produce la cosa pubblica, lo zon politikon, l'essere collettivo sociale della moderna cosmopoli. Del resto, aggiunge Leavitt, non è affatto un caso che l'antagonismo estremo dei due campi nemici, la borghesia e il proletariato, corrisponda alla credenza in una notta finale tra il Cristo e l'anticristo, nell'ultima epoca della storia, e che il compito del proletariato sia analogo alla missione storico-universale del popolo eletto. L'universale funzione redentrice della classe oppressa corrisponde alla dialettica religiosa di croce e resurrezione e la trasformazione del regno della necessità in un regno della libertà corrisponde alla trasformazione della civitas terrena e in civitas dei. L'intero processo storico, quale è delineato nel manifesto, riflette lo schema generale dell'interpretazione ebraico-cristiana della storia, come il divenire provvidenziale della salvezza verso un fine ultimo dotato di senso. Quindi, per Leavitt, il manifesto del Partito Comunista non è assolutamente un'analisi puramente scientifica fondata su dati empirici. Il fatto che la storia della società, fino ad oggi, mostri molteplici forme di opposizione tra una minoranza dominante e una maggioranza dominata, non giustifica la sua interpretazione e valutazione nel senso di uno sfruttamento. È ancor meno l'aspettativa che ciò che finora è stato un fatto generale cessi necessariamente di essere tale nel futuro. Anche se Marx vuole spiegare scientificamente il fatto dello sfruttamento con la teoria del plus-varore, lo sfruttamento rimane, ciò nonostante, un giudizio morale. Esso è qualcosa di assolutamente ingiusto se commisorato ad una determinata idea della giustizia. Nell'interpretazione marxista della storia universale esso non è nulla di meno che il male radicale della pre-storia o, in termini biblici, il peccato originale. E come il peccato originale, esso corrompe le facoltà non soltanto morali ma anche intellettuali dell'uomo. La classe sfruttatrice può avere del suo stesso sistema di vita soltanto una coscienza falsa, mentre il proletariato, che è libero dal peccato dello sfruttamento, comprende l'illusione capitalistica insieme alla sua propria verità. In quanto male supremo, che contamina ogni caso, lo sfruttamento è molto di più di un fatto economico. E qui poi troviamo la celebre definizione di Leavitt del marxismo. Scrive Leavitt che il materialismo storico è una storia della salvezza espressa nel linguaggio dell'economia politica. E poi continuano dicendo che ciò che sembra essere una scoperta scientifica è dalla prima proposizione fino all'ultima ispirata ad una fede scatologica che dal canto solo determina il peso e la portata di ogni singola affermazione. D'altra parte, non sarebbe stato possibile elaborare scientificamente la visione della vocazione messianica del proletariato ed entusiasmare i milioni di seguaci con la mera constatazione di situazione rifatta. Infatti, secondo Leavitt, anche se accettiamo l'affermazione che tutta la storia è una storia di lotta di classe, l'analisi scientifica non può derivarne che la lotta di classe sia il fattore essenziale, condizionante rispetto a tutti gli altri. Infatti, dice Leavitt, per Aristotele, come per Agostino, la schiavitura è un fatto tra molti altri. Per il primo era un fatto naturale e ineliminabile, per il secondo era un fatto sociale che doveva essere mitigato dalla carità, ma che non era decisivo per la salvezza della nazione eterna. Soltanto con il sorgere di una società borghese emancipata, il rapporto tra dominatori e dominanti fu sentito e definito come uno sfruttamento a causa del desiderio di liberarsene. Se Marx insiste sul fatto di non essere influenzato da pregiudizie e valutazioni morali di nessun genere e tuttavia la sua innumerazione delle varie formi di autonomia sociale si riassume nelle parole polemiche oppressori e oppressi. Egli commette un singolare errore nell'interpretare se stesso. Il presupposto fondamentale del manifesto del Partito Comunista non è l'antagonismo di borghesia e proletariato come di due classi in opposizione. L'antagonismo sta piuttosto nel fatto che in una classe sono i figli dell'oscurità e nell'altra i figli della luce. Igualmente la crisi finale del mondo capitalistico borghese profetizzata da Marx nella forma di una previsione scientifica è un giudizio finale anche se pronunciato dalla legge inesorabile del processo storico. Nei concetti di borghesia di proletariato nella concezione generale della storia come una lotta sempre più aspera tra due campi nemici e neppure nell'anticipazione del suo umbile drammatico possono essere verificati in modo puramente empirico. Soltanto nella coscienza ideologica di Marx la storia è nel suo complesso una storia di lotta di classe e quindi conclude Levit affermando che la reale forza propulsiva che sta dietro a questa concezione è un evidente messianessimo radicato inconsciamente nell'essere stesso di Marx. In significato e fine della storia oltre alle tesi sulla filosofia della storia e sullo storicismo appagliano ormai evidenti anche i due termini e i due termini all'interno del quale si muoverà la riflessione filosofica del Levit maturo da una parte la storia e dall'altra la natura. Infatti nei contributi successivi da sul senso della storia a marxismo e storia da critica dell'esistenza storica a Dio uomo e mondo il confronto di Levit con Marx non avviene più solo sul campo della storia della filosofia della storia della sua impossibilità secondo Levit ma anche e soprattutto sul campo della natura. natura che secondo Levit il pensiero storico moderno culminante nello storicismo avrebbe obbligato e abbandonato all'indagine scientifica che per Levit però è essa anche per molti aspetti il frutto della secolarizzazione della concezione biblica del mondo perché sarebbe impensabile la riduzione della natura a materiali e a oggettività senza la desacralizzazione ebraica e cristiana della physis del mondo greco romano. In questo senso per Levit come accennavo all'inizio la materia di Marx avrebbe a che fare con la materia degli antichi anche degli atomisti antichi a cui Marx aveva dedicato la sua giovanile dissertazione. Marx infatti nell'ideologia teresca afferma che noi non conosciamo che una sola scienza la scienza della storia essa commenta Levit in marxismo e storia del 58 è per Marx l'unica perché è la rivelazione onnicomprensiva dell'essenza dell'uomo per cui Marx non rigetta soltanto la fede sovramondana in una rivelazione di Dio entro la storia umana in una storia della salvezza e gli elimina espressamente anche la storia della natura la natura è per lui come per Hegel solo la condizione preliminare ma subordinata dell'attività storica dell'uomo come per esempio nel caso delle condizioni geografiche e climatiche che condizionano tale attività per Marx la storia è la vera storia naturale dell'uomo e la preminenza della natura sulla storia dell'uomo ci sarebbe solo dice Marx in qualche isola corallina australiana di recente formazione e dice sempre Marx riprendendo Hegel anche il pensiero più criminale è più grandioso e sublime di tutte le meraviglie del cielo stellato perché il delinquente in quanto spirito è cosciente del suo pensiero mentre la natura non sa nulla di sé e quindi dice Leavitt il materiale del materialismo storico non è dunque la natura bensì l'appropriazione della natura da parte dell'uomo Marx allora non guarda più con meraviglia alle cose che sono per natura che sono come sono e non possono essere diversamente dice Leavitt ma è scontento e indignato del fatto che nella storia del mondo degli uomini le cose valano così e non diversamente e per questo vuole cambiarle il mondo di Marx è un mondo dirotto a storia e quantomeno è problematica l'elevazione del mundus hominum a storia mondiale a spese del mondo dell'universo fisico o del mundus rerum all'interno del quale in generale l'uomo e la storia sussistono infatti da una prospettiva materialistica come quella di Marx che tra l'altro apprezzava Darwin e al quale anzi pare volesse dedicare il capitale si dovrà pur dire che siamo il prodotto della natura a meno di non postulare dice Leavitt con Marx la cosiddetta generatio equivoca ovvero che l'uomo pur essendo un essere non creato da Dio si sarebbe creato da solo col proprio lavoro riproponendo così a livello antropologico la stessa capacità creativa dal nulla del Dio ebraico e cristiano ancora una volta cioè secolarizzando il principio teologico dell'orizzonte mondano e in Dio uomo e mondo Leavitt afferma che chi oggi pensa può prescindere da Darwin tanto poco quanto da Marx Freud e Einstein certo non si può prescindere da Marx che ci insegna quanto la società in cui viviamo determini il nostro presunto esserci individuale e cosciente ma non si può prescindere neanche da Darwin e Freud che hanno indagato l'uno in una prospettiva genetica l'altro in una diacronica la componente istintiva e pulsionale dell'uomo insomma la sua componente naturale di cui anche la cultura e la civiltà sebbene poi possano anche confliggere con essa ne sarebbero il prodotto il prodotto reattivo rispetto all'ambiente al mondo della natura innanzitutto certo non si può prescindere da Marx che insegna quanto l'uomo sia intervenuto sul mondo naturale e quanto abbia trasformato l'ambiente non umano tanto oggi da poterne mettere a rischio anche gli stessi equilibri ma non si può prescindere neanche da Einstein che nella natura non cosciente non veniva affatto il regno dell'arbitrio e dell'irrazionale bensì quello della più alta razionalità e legalità tanto l'aver detto in una celebre intervista che il dio in cui credeva era il dio di Spinoza quel deus sive natura che tanto affascinava anche Levite al quale le ricò l'ultimo capitolo di Dio uomo e mondo 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 di Dio uomo e mondo